Non abbiamo in mente niente di speciale per fermare Cristiano Ronaldo, giocheremo come sempre, certo che però guardiamo i filmati delle altre squadre, sicuramente l'abbiamo fatto anche col Portogallo, ci prepariamo sempre a fondo, lavoriamo insieme come squadra per fare quei piccoli aggiustamenti che in campo possono fare la differenza. Penso che però il modo migliore per fermare un giocatore è studiare come gioca, noi sappiamo come fermarla. È vero che magari avremmo dovuto esultare di più dopo la Francia, talvolta sembra che siamo troppo sotto pressione, ci dimentichiamo che alcuni dei nostri tifosi hanno fatto sforzi enormi per essere qui con noi. Non possiamo che scusarci se non abbiamo festeggiato insieme a loro, non succederà più. Speriamo di poterlo fare meglio mercoledì sera, una volta staccato il biglietto per la finale.